buongiorno ci troviamo l'artic acidio e oggi andiamo a vedere lo stato avanzamento dei lavori di plantiere in particolar modo dell'attico siamo nella zona giorno si esce su questo balconcino di servizio, coperto, terrazione di servizio, rientrando andiamo verso quello che è il bagno di servizio e la cucina al piano attraverso la scala saliamo nella zona notte vedete ad essere ancora divisa vedete l'interagliatura delle strutture usciamo su questo magnifico terrazzo giardino pensile di ben 75 metri che domina tutto il paese di Duarte Caccini guardate qua qualche grande, improvabile stanno facendo il colonico di impianto riscaldamento, il grito e il sanitario e a breve partiranno a fare anche quello di impianto elettrico per maggiori informazioni contattatevi al 331 7736797 geometra Marchesi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti